buonasera eccomi qua vi aspetto live facile perché la mia schiena ancora non mi consente di fare grandi cose live facile veloce un compitino che sono sempre quelle cose super super easy che potete fare con quello che avete su quegli avanzi che avete sul tavolo senza grandi pretese e che fa anche un pochino bene mi sentirei di dire vi aspetto qui c'è anche ron non mi non mi faccio vedere perché questo sto sciancata con la schiena mi sono appena lavati i capelli quindi sembro una versione di incrocio trama falda e agrid so che potete capire e quindi è meglio per voi che io non mi palesi con l'aspetto al momento potrei giusto prendere questo gattino bellissimo e farvelo vedere ma non si fa prendere va bene non importa buongiorno buonasera insomma ben arrivati ho qui le news di team che sono arrivate oggi e siamo pronti domani mattina per pubblicare la nuova release di all and create avete visto lunedì sarà con noi abs nel live verso le 17 per raccontarci tutto faccio vedere qualche demo e bla bla problematica sito sembrerebbe superata stanno ancora cercando di fare delle migliorie ma tendenzialmente mi sembra che oggi vada tutto bene e quindi una buona giornata ben arrivati vi aspetto vediamo prima insieme questi arrivi poi facciamo questo compitino veloce veloce io ho ancora mal di schiena quindi in realtà faccio un po fatica a stare ferma nello stesso punto per un po di per un tempo un po prolungato quindi portate pazienza prima o poi farò anche il project live domani vediamo cosa fare domani insomma ci sarà solo la pubblicazione di all and create e arriveranno le tantissime fustelle di tommaso che avete ordinato la winter greenery credo che ce ne sia ancora qualcuna sul sito noi ne abbiamo mi sembra ancora 4 o 5 di quelle che disponibili ho fatto 5 ordini tra stasera e stamattina all'azienda di tommaso credo che mi sospenderanno l'account per comportamento molesto non lo so però finché posso riassortirlo ovviamente la prendo quando poi vi dirò che sono finite e chiuderemo l'ordinabilità del prodotto ovviamente ben arrivati allora dunque 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 cosa abbiamo qua parte delle cosine di natale di team perché gli altri tim sono in programma come in programmazione come arrivo al distributore per il 28 sono un po in ritardo e ne è arrivato uno solo che è questo qua che è molto carino questo font bello fa la tc fa la card finisce fa tutto lui e poi sono arrivati gli stencil gli stencil mi sembra che siano invece tutti adesso ve li faccio vedere stelline questo è delizioso agrifoglio agrifoglio vero sì tiny holly l'alberello piccolino è stupendo questo è il tris degli altri sono quelli piccoli i misuramini dei tre che sono usciti in misura grande ovviamente sono da avere tutti quanti secondo me ma l'alberello è delizioso questo ci serve assolutamente poi cos'altro ci ha scodellato il buon timolz queste fanno parte della versione vault vault quindi sono riedizioni se non comprendo male di fustelle che sono già state fatte uscire in versione bix o in versione di misure diverse e via discorrendo e abbia e queste sono della misura per la sidekick quindi in realtà sono piccoline adesso ne apro poi una caso vi faccio vedere c'è dentro un embossing folder a misura della sidekick ovviamente ed è a misura direi perfetta per le atc just saying ovviamente e poi ha una serie di fustelline quindi questa qui ha il pacchetto di cioccolatini la bustina la frecciolina e questo embossing folder questo di natale ha l'embossing folder con il motivo del candy cane guardate questo ginger che se la ride è meraviglioso è bellissimo poi veniamo a queste due che forse sono quelle che più mi piacciono questa sei già uscita io me la sono persa e non va per niente bene comunque apriamo un secondo questa che ha queste bellissime mug da caffè giuro che cerco di non romperle non ne abbiamo tantissime ne sono già andate via diverse quindi cerco di fare attenzione l'embossing folder è più lungo ovviamente della 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 tc ma si presta per essere usato nella tc è un embossing folder 2d e vediamo le fustelline fustella guarda fantastiche ma queste non sono mica così piccole guardate le mag sono belle sono belle grandi io amo le tazze quindi c'è proprio non c'è storia l'altra che è una letter board che avete presente sono quelle lavagnette che hanno quei divisori in in vellutino un po tipo i portanelli all'interno dei quali si possono scrivere delle frasi con degli alfabeti appositi che hanno dei perni che si incastrano all'interno di questa di questa struttura non so se mi sono sfigata ma conto sul fatto che tendenzialmente ce le abbiate presenti e questa è interessantissima io per quest'anno dei tels che viene nelle atc ho programmato una tessera verticale con una letter board su cui ogni mese scriverò una frasetta quindi quando l'ho vista mi sono detto un segno ho fatto una buona scelta quindi qui dentro c'è tutto l'alfabeto che giuro non apro e questo è un embossing folder che ci fa la letter board è bellissima così poi noi abbiamo gli spazietti no vabbè ma è meravigliosa ma se questa è uscita grande io me la sono persa che non va bene non va bene non nella tc scusate ho detto tc volevo dire una delle altezza del project life sono detto tc sono quasi ubriaca ma anche senza alcol tra l'altro quindi queste sono le novità di team in attesa ancora dei timbri di natale che dovrebbero arrivarci magari anche già la prossima settimana magari non fanno in tempo perché sono in arrivo il 28 quindi no la settimana prossima direi che non ce la fanno arriveranno scusatemi i primi di novembre scusatemi delle cardiallo in brava rosalba poi ce le fai vedere allora mettiamo via questi intanto senza provando a non fare danno che ridere però cerchiamo di sistemarle meglio per me è sempre drammatico aprirle queste bustine perché poi con me non rimangono intere ma neanche neanche pregando proprio così ok più o meno dai quindi queste le news i carciofi che aspettavamo di team e questi sono gli stencil e il timbrino di natale che è arrivato gli stencil sono i tre grandi all'interno del settino piccolo trovate i tre stencil in dimensione ridotta solo il font in passato e non la letter board quindi l'hanno appoggiato sulla letter board perché è meraviglioso è bellissimo mi piace veramente tanto quindi quando poi l'ho visto che ho collegato alla tessera che insomma ho progettato mi son detta vabbè è un segno qui ho perso un ho perso un angoletto del piano bianco e quindi adesso cigola come è stato possibile perdere un angoletto del piano bianco solo io vabbè allora compitino io ho qui i due compitini passati poi farò anche la scatola che copierò credo per dissequamente da quella di linda e compitino cosa sono i compitini lo dico per chi arriva non ha nessuna velleità di essere un insegnamento né una direttiva né niente è uno stimolo per chi magari in questo momento non ha grandissime idee o grandissime grandissime spinte creative e vuole provare a rimettersi in gioco sono spunti idee sono tutti miei live sono leggibili in questo modo ma questi sono un pochino più concertati dalla psicologa quindi vanno incollati può essere quindi il compitino prevedeva di trovare una foto di qualcosa che ci facesse stare bene qualcosa qualcosa qualcuno un posto che ci facesse stare bene che ci facesse sorridere questo perché ci serve qualcosa di positivo all'interno di questo piccolo layout che andrò a fare perché in realtà le cose belle sono dispettosamente intorno a noi anche quando attraversiamo dei brutti periodi cioè loro sono lì a guardarci ad aspettare che ci accorgiamo che sono lì il problema è che quando siamo infagottati nel brutto periodo non alziamo gli occhi e non le vediamo quindi è uno stimolo per andare a cercare qualcosa di bello sempre lo abbiamo fatto durante il covide lo stimolo che cerco di darvi sempre perché nonostante i periodi siano di m le cose belle sono dispettosamente lì fuori sempre basta cercarle quindi grazie perché il tuo compleanno mi sono persa alida abs ha spoilerato meno male così non mi sento così non mi sento in colpa io intanto inizio a prendere la taglierina per esempio allora dunque taglierina io avevo degli avanzi di carta di appiccini in realtà ero convinta di avere degli avanzi di questa carta e non è stato così quindi che qui ho perso la bustina no mi sono presa ok no no si sono in diretta sono in diretta sono in diretta mi sono presa la bustellina mi fai stare bene può andar bene in realtà anche un sentiment che vi faccia che si colleghi insomma questo mood di pensiero che vi faccia pensare a qualcosa di positivo o un alfabeto o se volete potete scrivere un journaling io non li scrivo mai i journaling nei layout anche se teoricamente nascono per essere scritti anche lì perché è una grafia terrificante quindi affido il mio journaling al contenuto dei sentiment degli appiccichini e delle fustellate e va bene così ho degli avanzi degli abbellimenti di ottobre che ho usato per una cosina che vi farò vedere più avanti mi sono stampata due foto dei piccini un merry christmas in orizzontale ormai è un po' too late me lo segno per il prossimo anno ho due foto di questi piccolini che alla fine insomma sono mi fanno assolutamente sempre tornare il sorriso che poi ci diciamo che li salviamo noi ma in realtà sono loro che salvano noi la maggior parte delle volte o quantomeno ci si salva reciprocamente sono forse un pochino in anticipo ho finito di farmi di farmi bella mi sono lavati i capelli mi sono preparato e ho detto va bene adesso vado e quindi sono qua ho rifatto le unghie e quindi sono qua e poi vado a riposarmi sul divano perché oggi sono arrivate le altre 14 le altre 12 scatole della della fortina e nel market smistarla è stato super iea però l'abbiamo fatto e sono bellissima è arrivata anche il kit del mio corso ma poi vi racconto allora intanto io che ho finito di arrivare mi taglio la mia basetta che è un 6 per 8 così 6 per 8 pollici quindi ho scelto per le cose che mi fanno stare bene le foto dei miei piccini adesso questa la taglio perché così la posso incollare sulla cornice io mi sono presa queste cornici qui la selfie fa capricci io non uso tu usi l'app della selfie io non sono capace di usare l'app della canon e quindi in realtà stampo sempre da rullino oppure da pic stitch dove vado a dirgli se deve avere i margini o no e quindi in realtà non bypasso l'app della della selfie le box della fortina sono super strassol d'out nel senso che mi hanno scritto dei over sold hanno venduto più di quante ne avessero nel senso che probabilmente alcuni carrelli sono stati chiusi in contemporanea come come succede anche a me ogni tanto e quindi non no meno che non decidano poi di farne ancora altre però per ora queste mi hanno detto di no e infatti addirittura pensate che le scatole che sono meravigliose ma le scatole sono di due colori diversi una è tiffany blu non è proprio tiffany è un blu blu chiaro e le altre sono viola e la scatola del mio corso è senape che comunque a me piace tantissimo ecco allora intanto io mi preparo queste foto le incollo e poi le ritaglio perché in realtà devo metterne due quindi ho bisogno di questo pezzettino qua e quindi questa la posso tagliare più o meno qui buongiorno oggi compitino cercate una cosa che vi faccia tornare il sorriso che vi faccia stare bene ovviamente per me si parla dei miei micetti non può che in questo momento parlarsi di loro non può che trattarsi di loro scusate mi sto parlando in italiano spaventevole voilà così e adesso l'altra a cui tagliamo questo bordino e tagliamo anche un pezzetto sotto tanto non ci servirà luigi sto facendo un compitino cioè sto suggerendo un compitino sai che sei stato un po tu che mi hai fatto iniziare questa cosa qui e continuo è cioè nel senso non mi rassegno quindi una foto di una cosa che ci fa sorridere che ci fa stare bene un qualcosa una persona un posto qualsiasi cosa anything lo dicevo prima e ci credo le cose belle nonostante i periodi brutti sono dispettosamente sempre intorno a noi basta alzare lo sguardo anche se a volte è difficile ma ok allora quella l'ho fatta io ho la mia base che è qua vediamo se io ho pensato di usare la scritta ma magari non ci sta la scritta con questa cornice bellina che sono no no ci sta ci sta giusta 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 ma ci sta una cosa super super semplice allora ho pensato che con gli abbellimenti di ottobre sarebbe stata bene ha portato a casa due zecche o madosca io ne ho tolte due a sirius quando arrivato lo schifo lo schifo lo schifo lo schifo lo schifo mamma mia che dire quando accompagno qualcuno in aeroporto ma non ho foto ci sarebbe non hai foto mannaggia bisogna sempre avere il telefono pronto allora io ho cercato di eh beh ti sei come dire macchiato di una responsabilità molto forte perché io adesso l'ho presa in l'ho presa a cuore questa cosa luigi ho pensato addirittura un progetto per il prossimo anno in realtà è la psicologa che convive all'interno della mia testa con me stessa che l'ha pensato e vediamo se se vi piace proviamo a me piace un casino e così aggiungo un altro progetto mensile che non so esattamente ma vabbè allora questa carta qui devo solo decidere se la voglio a tutta pagina ma io direi di sì o se la voglio ma io direi di sì perché poi gli abbellimenti sono già sono già abbastanza grandi magari lascio il bordino bianco ecco questo potrebbe essere una cosa carina quindi 5 3 quarti per 7 3 quarti il timbroli family allora puoi scriverci al trovalo per me guardiamo se è disponibile ho un qualche reintegro da fare purché tu non abbia particolarmente fretta possiamo farlo tornare è tutta colpa di luigi sto giro sì allora bordino bianco potrei distressare un po' eh perché in tutte le altre ho strappicchiato e qui e qui invece no ok e già comunque mi piace poi ero convinta per il lavoro che ho fatto per cui mi sono avanzati gli appiccichini di avere anche dei ritagli della carta ma credo di averli usati tutti perché non me ne sono trovate non me ne sono trovate delle altre tinte unita devo decidere di che colore tagliare la scritta madonna mi muovo che robocop scansati vabbè dunque potrebbe essere di questo colore qua oppure potrebbe essere marrone no un po troppo dark lo farei lo farei lo farei di questo colore qui butto ancora l'occhio qui intorno perché mi sembra veramente bizzarro ho fatto questo piccolo lavoro che poi servirà per una cosa precisa ve lo racconto che poi si fa e quindi ho avanzato tutti questi ma non trovo più i ritagli delle carte ah beh sì è qua guardate forse mi bastano in realtà l'ho usata quasi tutta la carta brava allora la scrittina che io voglio perché poi in realtà mi basteranno gli abbellimenti io fustellerò la mia fustella che dice mi fai stare bene ma potete dedicare un pensiero una parola scrivere una frasetta relativa alla foto che avete scelto di qualcosa che vi fa stare bene qualcosa qualcuno qualche posto sia che troviate un sentiment che rispecchia un po quello che pensate oppure con un alfabeto alfabeti paffi fustelle insomma quello che avete oppure potete scriverlo a mano come una sorta di journaling questo è il campione e lo apro allora fustelliamo vado questo ovviamente mettiamo dello spessorato eh neanche a trovarci dire di no allora è uno stencil sì è lo stencil che ti fa sia da stencil che ha tutti i forellini per fare i bucchini per cucire i layout non so se hai visto alcuni dei layout delle ragazze dei my 12 tails mi viene in mente forse nicoletta forse da daria sicuramente che hanno fatto un layout al mese con con le collezioni dei tails cucendo tutti i bordi io chapeau le ammiro tantissimo non avrei mai potuto il risultato è meraviglioso meraviglioso della renche allora purtroppo della renche non stiamo più prendendo tante cose perché in realtà c'è pochissima richiesta fatemi dare un'occhiata a quello che è uscito non ho visto che fustelle bellissime perché poi mi faccio tirare molto facilmente che fustelle bellissime avete visto ditelo alla clé voilà così hanno fatto la renche non ho letto tutti i commenti quindi della renche sì un tempo avevo le carte tantissimo tempo fa solo che poi le fustelle effettivamente hanno un costo particolarmente importante quelle della renche e in realtà poi avevamo smesso di prendere però do un'occhiata volentieri se mi segnalate qualcosa vediamo perché la renche non è distribuita da nessun distributore quindi dobbiamo necessariamente comprare da loro lanterne e fiori e siamo su ma bin ciapa allora se io qui metto uno spessorato se qui metto uno spessorato su questa qui dovrò mettere diversi pallini che mi permettano di portarla allo stesso livello intanto mettiamo via la fustella perché ho proprio un po paura che altrimenti me la perdo allora mettiamo via la taglierina perché adesso inizia la parte fan questo l'ho incollato no fantastico quindi prendiamo un paper di stress anche le forbici rovinichiamo un pochino il bordo così decidete voi quanto essere molesti o meno io apro anche una cosina così è fatta quindi questo potrebbe essere incollato qui così questo ho bisogno che ci sia dello spessorato inizio ad incollare qualcosa iniziamo perché questi devono essere spunti super rapidi che potete fare con qualsiasi cosa avete in casa non vi faccio nessun prodotto contenitore vi ho detto indicativamente cosa sto usando ho dimenticato la cornice ma la cornice se non avete le frames potete tranquillamente intagliare la mano o non metterla molto semplicemente o usare due fustelle insomma che vi consentano di allora mettiamo qui un po di spessorato mettiamo due striscette anche tre così e non colliamo dritto magari è così poi abbelliamo con gli abbellimenti adesso mi preoccupo di posizionare questa sempre dritta magari che potrebbe appoggiarsi qui così un pezzettino potrebbe entrare un pochino in qua non troppo perché sennò mi copre il piccoletto il piccoletto se lo lecca se lo bacia sirius cioè gli piace tantissimo sirius non è proprio così avvezzo a questa cosa perché tutti gli anni che ha vissuto in casa con tai tai lo pettinava e basta lo picchiava gli ringhiava gli faceva di soffio insomma no no not friends e invece il piccoletto se lo cura se lo coccola se lo pettina il file grooming è un amore prendiamo io prenderei qualche striscetta da tre millimetri e farei dei pezzettini allora dunque fatemi vedere così li farei a partire da qua tipo una striscetta qua poi potrei mettere una striscetta continua qua poi un pezzettino qui dovrebbe più o meno portarli anche se poi c'è questo spessore qua che probabilmente sfalsa un po però vediamo quell'oro mi riportano il sorriso sempre e meno male che arrivato il piccoletto ci voleva proprio sirius è contento anche se fa queste facce molto grampi è vediamo un po sì 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 va bene mettiamo uno zinzinello di colla qui e qui e teniamo un attimo e adesso io in realtà il compitino l'ho fatto devo solo decorarlo per ricordarmi che le cose belle alla fine sono sempre intorno a noi ogni tanto quando sono particolarmente giù mi dico che sono lì per farmi dispetti no per dire io sono qua cosa aspetti cosa te ne stai lì rintanata in quell'angolo ce l'abbiamo tutti questa cosa che quando siamo particolarmente giù nervosi affranti dalle cose brutte che ci capitano ci rintaniamo in un angolo sirius è abbastanza coccoloso in modo suo nel senso che poi dopo un po si stuva e ringhia però in realtà col piccoletto è molto fraterno no no è proprio carino allora vediamo che cos'ho qui tra gli abbellimenti che mi sono rimasti sicuramente metteremo qualche fiorellino anche se sono due due maschietti potremmo addirittura pensare un po tumacicle anche meno un pochino meno anche quel cosina di più piccolo questi sono avanzi quindi in realtà insomma uso quello che ho l'idea è di non prendere nient'altro io vorrei queste fogliette qua che sono meravigliose vedete questo è di luglio dell'anno di quest'anno e questo qui ottobre io si vede che i miei colori sono sempre quelli e quindi si sposano perfettamente bene raccolgo un po quello che potrebbe esserci questo lo mettiamo qui quello che potrebbe andare bene a questo per esempio sarebbe perfetto messo qua mi servirebbe solo il suo simmetrico perché sono un po fissata con le simmetrie adesso vediamo se no potrei mettere se no potrei mettere questo lassù sì questo lassù ci sta bene dai questo qui e qui ci serve un qualcosa che sbuchi che potrebbero essere in realtà queste un po si perdono anche se sono meravigliose potrei costruire un clasterino per usare gli avanzi credo che la germanella possa autorizzarmi quindi questo qui no potremmo usare uno di questi che potrebbe sbucare da un da qui o da lì proviamo a tagliarlo no c'è proprio solo per dare un pochino di movimento quindi in realtà mi servono solo queste parti qua io adesso non lo incollo vediamo come sta questo potrebbe essere carino potremmo anche mettere una petta qua oppure potremmo mettere qui secondo me ci sta allora incolliamo questo innanzitutto senza pensarci troppo deve essere proprio una cosa mi prendo un pochino di me time no il tempo per noi stessi che siamo sempre un po tirchi in questo senso che sembra sempre che ci sia qualcosa di più importante invece non è così non va sottovalutato mettiamo uno spessorino che poi mi consente di agganciare questi sotto quindi uno lo faccio uscire da qui e uno lo faccio uscire da qui ok quelli non li ho ancora attaccati vedete anche questo sarebbe stato very cute magari sta meglio di questo ma sulla foto ormai quello che ha attaccato e legge allora fatemi vedere solo gli angoletti per esempio se avessi due angoletti che si sposano bene potrebbe essere una cosa molto carina sto giocando con gli avanzi è quindi guardate relax questo ci starebbe proprio bene allora ho trovato un angoletto che è dello stesso colore della carta se trovassi anche l'altro perché ovviamente questo è marrot mettiamo via gli angoletti che troviamo sta per diluviare qua ha piovuto tutto 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 il giorno e in realtà sta ancora piovendo se devo dirti no che copre la scritta anche no non te lo permetto ma questo che scende giù così io alla fine faccio sempre gli angoletti perché mi piace un casino quindi solo incollero così stavo cercando gli angoletti se li trovenne trovarsi due uguali sarebbe carino a guardate ho trovato questi due che si sposano con la scelta della carta che ho fustellato adesso finisco di incollare anche questi perché ho deciso che li metto perché sono un dettaglio in più mi piace poi ci mettiamo due enamel ho una busta piena di enamel bisogna anche usarli allora questi due ne metterei uno qui e uno qui vedete come chiude la composizione l'abbiamo fatta in cinque minuti col mal di schiena quindi voglio dire non ci sono scuse sono certa che avete scatole scatole di avanzi che avete tenuto millimi millimetrici lo so che avete tenuto lì e questo è il momento di usarli non so se mettere la pina forse quella è un po' troppo grande questa che potrebbe essere un po' più piccina magari un po' più aggraziata ma prendiamo gli enamel la posso far vedere tu l'hai presa ivana posso prendere una di quelle della braguti che mi aveva dato l'ok ora io non so se sono tutte uguali non le ho aperte non le ho aperte ne ho aperte solo oggi ne ho aperta una solo per sincerarmi che fossero uguali quelle azzurre quelle e quelle viola e che effettivamente la mia box del corso fosse la box del corso e non qualcos'altro uno spoiler dei gadget il prossimo anno allora il gadget della plus è un fustellone una fustella bella important ho pensato di andare sulle cose utili una cosa che mi dicevo sempre che mi serviva mi sarebbe servita mi sarebbe servita mi sarebbe servita e l'ho fatta e sarà il gadget e quello della basic è un timbro con fustella quindi la plus avrà il fustellone e il timbro con fustella cose utili quest'anno dunque aspettate che prendo gli enamel perché qui non li ho messi vero no qui non ci do devo averli già messi qui non so se sei tu è più verosimile che sia questo no perché quest'arancio non c'entra vabbè ma uso quello che c'è non ci sarebbero neanche male bianchi gli enamel magari li prendiamo da quelli di agosto due namelini piccini picciò qua e la così poi vediamo ne mettiamo altri tre qua sapete che io li metto a tre a tre e quindi così va bene sono contenta a relax non colla certo che anche questo si sposa muy bien no adesso che ho perso questo angoletto fatemi vedere se qua ecco 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 non stava in equilibrio quindi era una donna triste ok questo qui lo sostituisco guardate e qui ne sostituisco uno piccolo ok fatto attacchiamo relax li metterò in vendita se avanzano non ne faremo tantissimissimi però quelli che avanzano dopo che abbiamo fatto tutta la prima grande tornata dei rinnovi quindi dopo gennaio valuteremo se possiamo metterne in vendita alcuni e indicativamente vedremo quanti è sempre difficile fare una stima così scusate metto la scrittina relax e a questo punto io la petta la metterei la metterei lì dicono nel libro così non mi si vede lo strappo e allora magari la pina se vogliamo metterla lo mettiamo lì o forse meglio di no forse meglio di no potrei metterla lì sì dai di non disturba mettiamo un puntino di colla e la sistemiamo che guarda in là ok e il compitino di oggi è fatto easy peasy adesso metto via queste cose vado a raccattare una box della fortina il plan e il compitino è fatto ci potrei fare ancora qualche macchiolina qui ho il caffè marrone no ci vorrebbe un colore più pol nero il grigio però sono in basso e non ci arrivo adesso col mal di schiena e non ne ho qua a meno che non abbia qualcosa qui tra gli spritz no mi sa di no il vintage potrebbe essere il vintage foto ma adesso vediamo allora metto via questi e intanto vi dico le box della fortina in e market che vi faccio vedere adesso ve ne faccio vedere una non so se sono tutte uguali quindi può essere che qualcuno di voi riceva delle cose diverse perché sono state assemblate con delle categorie di prodotti simili ma non è detto che i prodotti all'interno delle box siano gli stessi non sono incollati a questi brava perché li avevo solo poggiati così si finiscono di incollare intanto che pastrocchiamo e sono super sold out quindi per ora non rientreranno salvo che non decidano di farne proprio con un concept diverso io nel caso ovviamente faccio il possibile per prenderne un po visto considerato quanto sono piaciute queste e intanto però vi faccio vedere queste se c'è qualcuno che le ha prese non vuole rovinarsi la sorpresa questo è il momento spoiler che potete saltare vado a recuperare prendo quella della braguti arrivo subito sono anche estremamente impegnative in termini di dimensione adesso metto via la colla e vi alzo il l'accrocchio del telefono perché altrimenti vedete nulla non riesco neanche aprirla non ho lo spazio per aprire il coperchietto allora mettiamo questa qui e questa qui alziamo di accrocchio non più di tanto perché la clea comunque bassa allora capello dunque l'ho aperta dal lato dove avrei dovuto aprirla dall'altro lato ma vabbè dunque che cosa c'è c'è un valore di circa 200 dollari se non ricordo male e ne costa circa 50 euro ci sono una serie di washi questa della collezione come si chiama sunburst non c'è scritto però sì questi sono i ticket che sono meravigliosi e mai più senza questi sono stupendi sono in carta si staccano i francobolli cioè io questi li adoro qui sono verdi grigi marroni e grigio violetto poi fiori fiori meravigliosi calamite a le calamite per le chiusure belle ma non avevo visto che facevano le calamite adesso me lo segno poi memory journal essential forse ne ho portato qualcuno per per dei per dei custom poi memory journal quindi questo è il journal braguti non so se te la levo è meraviglioso guardate che colore stupendo questo è un questo è che poi adesso sbavo tantissimo ma io non li uso li lascio tutti così ma è meraviglioso potrei metterci dentro tanti midorini no vabbè splendido e dai journal questo è il questo completa questo nel senso che questi sono i quadernetti le etichette no vabbè brava braguti che l'hai comprato hai fatto bene non ci sta guardando poi le mando un messaggio è meraviglioso però questi journal si può credo che ci siano assolutamente ancora li possiamo far arrivare volendo poi questa è la christmas spectacular che è la collezione dello scorso anno ma si coordina perfettamente con la collezione di quest'anno tra l'altro mi sono arrivate le mail delle novità della doodle bug è di bella boulevard doodle bug quest'anno esce con una collezione autunnale e poi una natalizia vediamo c'è un sacco di roba poi questa è la collezione groove rabon rabon questi della collezione toast che sono quelli di cui ho comprato le 60 farfalle poi not your study questa addirittura no no questa ce l'abbiamo avuta è molto vecchia ma ce l'abbiamo avuta questa invece è la sunburst che quindi è il nome della collezione anche dei uoscini questi sono i cluster kit che non stanno più facendo da un tot di tempo peccato questo invece siete i laser cut della christmas spectacular e poi ci sono carte amadosca cioè adesso vi faccio vedere carte sono tipo due centimetri di carte aspettate io adesso non le non le ho contate ma ci saranno 30 carte 40 carte caspiterina questa è messa o contraire quindi non si scusate ma devono essere io un po' di disturbi se si dice noi devono essere tutte dallo stesso verso e questo è il modo in cui perdo gli angoletti adesso gli mettiamo un punto di colla come diceva la lupi collezioni diverse fogli singoli vabbè c'è tantissima roba cos'è quella roba con i francobolli ah la sunburns ce l'abbiamo ce l'abbiamo bellissima bella adesso rimettiamo siccome io non sono madre e non sono così brava con gli incastri cerco di rimettere tutto nel miglior modo possibile speriamo che la braguti sia clemente con me anche il contenitore è veramente tanto bello e sono azzurrine e alcune sono viola questo è meraviglioso cioè questo credo che costi tipo 40 euro da solo sarebbe bello se fossi brava ad incastrare le cose come madre ma non è così erano incastrati tutti in maniera diversa lo so non mi dite niente le ho messo tutto chiudiamo scusate la scatola è grande e non si chiude no perché questo qui non gli piace essere messo qua ti metto qui che c'è meno spessore e dovresti chiudere rifacciamo si adesso si chiude questa è la mystery box che ha fatto la forti nine scusate le botte al telefono ne ho aperta una della braguti che mi aveva dato l'ok per aprirla sono meravigliose c'è dentro tantissima roba tra l'altro adesso la poso di là e poi gliela rimetto nel sacchetto forse vediamo ok tanta roba tanta tanta roba allora deve fare gli anni un po' più spesso meravigliosa in realtà siccome era la primissima volta che facevano una cosa del genere non sapevo neanche io bene che cosa aspettarmi quindi all'inizio ne ho prenotato solo 12 non avevo idea né di quanto vi sarebbe piaciuta l'idea né di cosa ci fosse effettivamente dentro già solo il journal e il contenitore valeva assolutamente la spesa e quel journal lì è meraviglioso quindi adesso la clecci penserà tutto il tempo poi andrà a controllare se ci sono e ne comprerò magari uno ma tanto poi non li uso quindi vabbè 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 la fustella moca se faremo un ordine io credo che faranno uscire adesso la collezione di natale quindi magari se se ordiniamo per quella sicuramente la moca la facciamo tornare non a brevissimissimissimo però sì 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 assolutamente penso di sì a patto che sia ancora disponibile perché ti sto dicendo questo ma non ho guardato in realtà se è ancora ordinabile da loro devo dire la verità non l'ho guardata questa cosa ok allora terzo compitino i miei compitini per ora si dipanano in questo modo che dite devo solo fare la scatola le mystery box le avevamo fatte ma con un concetto diverso in realtà questo non è malvagio però loro hanno veramente un catalogo prodotti n.000 volte più ampio del mio fai il trovalo per me e scrivi che sai che non possiamo fare il casto ma che così ci ricordiamo quando facciamo l'ordine eh anche tu non li usi ma quello lì prugna e cioè un colore meraviglioso poi questo interno così vintagerello no cioè penso che ci serva cioè cosa posso fare e che non li uso io mi sono fatta fare un paio di anni fa un'agenda dalla Lupi e non l'ho mai non l'ho mai usata no 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 ho fatto il sottomano non sono riuscita a disporre il tavolo così come avrei voluto e in realtà non ho usato neanche il mio stesso sottomano quest'anno adesso ho progettato un secondo sottomano per il 2025 vuoi che sia l'anno buono vediamo le fustelle che fanno i book per Spellbinders allora non so dirti di preciso se riusciamo domani o se sarà una cosa che faremo lunedì ma le metteremo in preordine saranno ordinabili per noi tra poco sono già apparse nella sezione delle release quindi possiamo farle vedere ma immagino che se me lo stai dicendo tu le abbia viste da qualche parte faremo il preordine per questo perché sono diverse sono piuttosto costose quindi in realtà non so a quanti interesserà averle comunque magari ci sono tante persone che le usano per fare proprio più pazzetti ma sono molto più costose delle altre vi dico che mediamente costano sui 40 euro e metteremo in preordine quelle tutti gli animaletti e i set di feltro di lana Merinos che hanno che mettono a disposizione buoni propositi usare il sottomano Alida che è un buon proposito facile in realtà a cui non riesco a tener fede sono veramente terribile vabbè 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 quest'anno bisseremo non bisseremo scusatemi replicheremo il progetto dei buoni propositi ci scriverò usare il sottomano o comunque una sottospecie di agenda che ti permette di organizzare pianificare scrivetti giù due robe insomma non è che puoi ricordarti tutto Siri eh anche perché se non glielo dice a Siri lei non si ricorda quindi vabbè allora me time terzo episodio appena sto un po' meglio la prossima volta che faccio un compitino faccio anche la scatola così come l'ha fatta e l'ha pubblicata sul gruppo Lidia che mi è sembrata molto carina e quindi vorrei copiargliela spudorissimamente spudoratissimamente scusatemi e che cosa sono? sono spunti semplici semplici per prenderci un pochino di tempo per noi stessi fare una micro riflessione scusatemi ma sono comunque pur sempre una psicologa e da qualche parte ogni tanto questa roba straborda e usare qualcosa che c'è in casa l'idea nasce da una condivisione di un pensiero di Luigi sul gruppo che ha destato tantissimi commenti non pensavo che ci fossero così tante persone silenti che quindi in realtà fossero un momento un po' grigio da un punto di vista della creatività non voglio darvi i compiti veri cioè come a scuola però prendetelo in modo ironico il fatto che io dico che do i compitini vuole essere semplicemente uno stimolo a fare qualcosa a buttarvi a fare qualcosa per voi stessi perché secondo me è il miglior trigger il miglior il miglior modo per motivarsi e spingersi a fare qualcosa perché in realtà questo hobby ha un lato che è proprio rivolto a noi stessi introspettivo il memory keeping insomma perché no ogni tanto invece di pensare di fare qualcosa da regalare agli altri o per gli altri facciamolo per noi il memory keeping è profondamente positivamente egoista è quel sano egoismo che ci serve sempre insomma il cubi del sano egoismo no? allora noto che ho fatto macchie dappertutto e non qui che faccio? prendo l'inchiostro sono un po' triste perché non ho il grigio e non ce la faccio a chinarmi fino lì perché è proprio tanto tanto in giù perché il marrone non ci sta proprio bene è la terza volta che lo guardo però per continuità ci vorrebbero delle macchioline non siete d'accordo? potrei usare un po' di vintage photo non so che ne dite ci provo intanto scechero voilà io due macchiette senza saperne leggere né scrivere le faccio copro magari solo qua metto questo far away guardate discrete discrete punto e lo metto via semmai lo rifaccio tanto ci vanno 5 secondi sì sì in effetti allora tirate fuori dagli scatoloni o dai cassetti dove avete messo i vostri avanzi che avete conservato millimetricamente ciascun pezzettino che vi ha avanzato perché chi lo sa nella vita e fate qualcosa per voi il compito di oggi prevede di prendere una foto di un qualcosa che vi faccia stare bene che vi porta il sorriso può essere una cosa una persona un luogo quello che è quello che vi fa che vi riporta il sorriso un sentiment che si adegui insomma a questa sensazione di positività insomma di serenità che vi porta quell'immagine oppure un alfabeto con cui scrivere una frase finito 6 per 8 pollici li sto facendo tutti uguali faremo poi farò poi lo scatolotto il contenitore per metterli non saranno legati uno sarà un album destrutturato però sì 5 minuti ci ho messo gli avanzi ho solo tagliato questa carta qui perché non avevo un foglio intero ma abbiamo milioni di foglie di pezzi di carta questi sono fatti con pezzi di carta non con fogli interi brava Alida che tu tra l'altro stai scrappando in trasferta vero? scrappando sembra che tu stia scappando in trasferta in realtà è scrappando in trasferta forse ti dà un po' più di tempo non lo so perché essendo lontana da casa magari un modo anche no per dire io sono dell'idea che un pochino di sano egoismo in questo hobby è un lato è il lato più terapeutico poi è bellissimo fare card fare album per altre persone è tutto parte di questo fantastico mondo colorato di cui in cui ci siamo no avventurati però questa parte qui che ci permette di coccolarci un pochino di più secondo me hai più materiale scopo che libri tutto bene allora domani mattina vi pubblicherò appena scendo la release di All&Create ci sono timbri occhiute fustelle washi e due cose nuove due prodotti nuovi che non so se Absa ha già spoilerato ma io domani ve li pubblico ve li scodello lì alle 7 7 e mezza e li vediamo poi insieme non so cosa riuscirò a fare nel pomeriggio perché comunque sono ancora un po' sciancata e nonostante tutto esco a mangiare sushi con le amiche per dire perché il sushi comunque è comfort food quindi vale anche se si sta male non so se riuscirò a fare qualcosa magari o vediamo insieme le novità oppure magari mi presento per non presentarmi a mani vuote cerco di fare delle ATC super rapide per da portare alle amiche non garantisco quindi spero che le amiche che stanno guardando non si facciano non abbiano troppe aspettative perché magari nha faccio esatto il porta memory decks e poi c'è anche un'altra cosa nuova che secondo me ci piacerà ci piacerà tanto il pesce fa bene alla salute la salsa di soia forse un po' meno però insomma con la salsa di soia è buono tutto è un po' come il fritto cioè puoi mangiare anche un copertone di una macchina no? e le copertine quindi ha fatto vedere tutto bravo abs bravo così non sono più colpevole sono geniali le copertine mi sembra che siano due colori tre colori le copertine e poi il memory decks il porta memory decks che è super decorabile fighissimo declinabile in qualsiasi stile mi piace molto quindi domani mattina vi pubblico quello domani arriveranno anche le tantissime fustelle ho dovuto riordinarne tipo una quarantina di fustelle del bottalico mi raccomando se volete la winter greenery del bottalico prenotatela perché purtroppo le scorte sono molto limitate quindi io stamattina ho fatto tutta una serie di ordini uno in fila all'altro mano a mano che arrivavano i vostri ordini e continuerò a riassortire fin tanto che ce ne saranno disponibili però mi hanno detto che non ce ne sono tantissime ecco si tratta di poche decine di pezzi quindi siamo proprio un po' agli sgoccioli di questa fustella che non vi è piaciuta per niente l'altro canto è meravigliosa quindi insomma comprate tutto prima che io guardi io ti capisco Romina ti capisco a lot allora io per oggi vi saluto vado a buttarmi sul divano io e la mia schiena sciancatissima lascio asciugare qui questa cosa prima di metterci le mani sopra e ci aggiorniamo domani mattina domani poi vi dico in itiner se riesco a fare il live domani pomeriggio ma è una cosa veloce piuttosto anche solo da farvi vedere le novità di Olencreate sicuramente lo facciamo e per stasera vi auguro semplicemente buona serata se avete voglia di fare il compitino poi pubblicato il compitino questo piccolo layout che vi porta un po' di me time che compitino mi da l'idea che chi non conosce il pregresso mi prenda proprio un po' per maestrina di spotica che è assolutamente l'ultima delle cose che voglio che si associ alla mia persona però vabbè ci provo grazie a tutti e buona serata ciao ciao ciao